Non siamo obbligati ad assumervi se lo sono sentiti dire senza mezzi termini 12 lavoratori ex Auchan di Trigiano che invece aspettavano con ansia il taglio del nastro di Expert a giugno. Secondo gli accordi sindacali siglati lo scorso febbraio infatti questa parte degli ex dipendenti di Auchan che ha chiuso i battenti sarebbero dovuti essere riassunti proprio da Expert a garantirlo direttamente Trisenter la proprietà del centro commerciale Bari blu e invece quando Expert ha incontrato i lavoratori per i primi colloqui è arrivata la doccia fredda. Non siamo tenuti ad assumervi hanno spiegato i selezionatori se lo faremo sarà alle nostre condizioni con contratti a tempo determinato di 6 o 12 mesi. Loro hanno ribadito che non hanno nessun obbligo nei nostri confronti quindi in questo caso è Trisenter che deve farsi carico di questa situazione ribadendo a Expert l'obbligo di assunzione con la famosa legge 2112. Non potevamo avere nessun tipo di dubbi sulla chiusura di questa trattativa e aspettavamo soltanto che Expert ci chiamasse per firmare il nuovo contratto. Cosa per voi significa che non è finito l'incubo? Assolutamente no anzi è ricominciato. Il punto spiega Marco Dell'Anna segretario Wiltux è che Expert non ha firmato direttamente l'accordo a prendersi carico dei lavoratori è stata invece Trisenter che dovrebbe trasferirli ad Expert previo accordo commerciale. Cosa si è andato storto è ancora un mistero. Di certo ora c'è solo un nuovo sit-in e possibili iniziative legali. Ci sono fortissime responsabilità anche legali se questo accordo non viene rispettato e quindi invitiamo Trisenter ad intervenire immediatamente a risolvere questa vertenza e garantire il passaggio di tutte le 12 unità alle stesse identiche condizioni contrattuali di provenienza.